Ciao a tutti e bentornati. Hugh Jackman in un nuovo film su Wolverine. Ancora? Vi racconta tutto dopo il video. Preferisco le vecchie. Preferisci le vecchie. Dopo aver incassato 413 milioni di dollari al botteghino mondiale con Wolverine l'immortale, la 20th Century Fox è determinata a realizzare un terzo spin-off. Chiamali scemi. James Mangold sempre in cabina di regia e Hugh Jackman sempre protagonista. Secondo i nostri calcoli sarà l'ottava volta in più di dieci anni che vedremo l'attore australiano nei panni del mutante indistruttibile. Lui è indistruttibile. Ma noi? Vabbè. Comunque per i molti fan Hugh Jackman tornerà nei panni di Wolverine già a maggio quando lo vedremo in X- Giorni di un futuro passato che a giudicare da trama e cast è forse l'episodio più emozionante della saga. Per oggi è tutto. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale e sarete sempre aggiornati sugli ultimi trailer in uscita. No? Ciao alla prossima.